Lunedì 20 settembre inizierà anche in Puglia, come disposto dal Ministero della Salute, come previsto dalla circolare regionale, la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti-Covid per alcune categorie di pazienti con fragilità. In particolare, assoluta priorità ai soggetti sottoposti a trapianto d'organo solido con marcata compromissione della risposta immunitaria. Si parte, si parte con quella che è la terza dose di un vaccino fondamentale per superare la pandemia. Secondo le indicazioni del Ministero e del Commissario Figliuolo, partiremo già dal prossimo lunedì chiamando un particolare gruppo di soggetti fragili, sono persone che hanno delle immunodeficienze, quindi che hanno un sistema immunitario tale che potrebbe non aver risposto bene a sole due dosi di vaccino. Si farà una terza dose in maniera da aiutare queste persone, eventualmente nel futuro, ad affrontare una infezione da Sars-Coronavirus. Siamo pronti a partire e partiremo secondo le indicazioni del nostro Governo. Si parte anche nell'ASL-BT, dove lunedì cominceranno le somministrazioni a partire dal centro vaccinale allestito all'ospedale di Miccoli di Barletta, con i primi 50 pazienti dell'Unità Operativa di Oncologia ed Ematologia. i pazienti saranno contattati e programmati a partire proprio già da lunedì.